Noi abbiamo la letteratura a sostegno di questo, e dietro non c'era letteratura, ma c'era appunto, come spesso succede, una difesa del ruolo. Perché vedete, io non voglio trattare argomenti politici, però lo dico da ricercatore. Nel momento in cui si avvia uno studio, la cosa che bisogna fare è irrazionale, capire perché. Perché è necessario modificare le organizzazioni? Perché è necessario? Perché è cambiato il bisogno. Essendo cambiato il bisogno, le organizzazioni devono necessariamente modificarsi, perché altrimenti passiamo al paradosso, dove è l'offerta che va a governare la domanda. È come il mercato della moda, ok? Il mercato della moda funziona così. Non funziona secondo i bisogni della popolazione, ma funziona sull'induzione del bisogno. Allora, se questo la moda se lo può permettere, perché è tutto a scopo di lucro la moda, un sistema sanitario pubblico, o comunque un sistema sanitario, questo non se lo può permettere. Quindi, tornando a noi, le scelte fatte risiedono su un sostegno scientifico che è rispondente ad un bisogno. Quindi, rispetto a tutto quello che è stato detto, molto bene prima dal professor Croce, noi ci troviamo in una dimensione che, da un punto di vista scientifico, viene definita transizione epidemiologica. E cioè, noi ci troviamo di fronte, come avete visto, circa il 75% della spesa è basata sulla cronicità. E quindi, questa è la famosa spilare di Scardi, questo è il problema, questa è la domanda. E quindi, quello che è stato fatto nel mio policlinico, è ragionare su come poteva essere la risposta, in modo che questa fosse appropriata, e uso il termine appropriata, da un punto di vista economico. Ok? Nel senso che se spendo una risorsa, quella è giusta per quella scelta. Quindi, abbiamo ragionato, da un punto di vista sia strutturale che funzionale. Partendo dall'accoglienza, e quindi, da un punto di vista strutturale, abbiamo identificato quello che ci serviva come strumenti, e poi come funzioni da affiancare a questi strumenti. E così anche nella gestione, da un punto di vista strutturale, come riorganizzare l'ospedale. Ma poi, tenuto conto della spirale, anche se noi riusciamo a fare un buon prodotto, creare le condizioni con il territorio, per una continuità assistenziale. Cioè, per facilitare la dimissione del paziente in una rete di sostegno. Cioè, laddove il paziente sia in grado di non dover rientrare in ospedale. Su uno studio fatto da un mio amico e collega dell'Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, un geriatra, unico studio fatto, nel 2005, lui aveva evidenziato come gli ultra 65 anni hanno un reingresso ad una settimana dalla dimissione pari a quasi il 7%, e questi erano dati del 2004. A 30 giorni, questo dato arrivava a sfiorare il 17%. Io ho realizzato, in iso risorse, delle riorganizzazioni in policlinico. Ho esternalizzato, ho recuperato delle risorse, che ho trasformato in OSS, ed ho ridotto i costi di produzione che mi hanno pagato l'esternalizzazione delle polizie. Ok? Quindi non ho portato costi sorgenti, o meglio, costi sorgenti e costi cessanti erano in equilibrio. Bene, io qui, mi spiace che sia uscito Valerio, Saverio, ma io dico che la professione infermeristica, se non si fa cogliere ancora dal nanismo professionale, ma anche le altre professioni, siamo in grado di accettare la sfida che qualsiasi ministro o presidente di Regione ci voglia consegnare nelle mani. Noi siamo in grado di poter riorganizzare, in iso risorse, una rete di sostegno per i pazienti, attraverso la riduzione del ricovero ripetuto in ospedale. È sufficiente andare a recuperare quelle risorse per poter aumentare un cordone sanitario all'interno delle Regioni. Siamo pronti. C'è qui la nostra collega, che è direttore di distretto, e io la invito a sostenere questa dimensione perché io so che siamo in grado di poterlo fare. Guardate che una laurea diversa da quella infermeristica o tecnica o fisioterapista, voglio dire, non dà il senso dell'intelligenza. Io quando con Severio Proia sedevo al tavolo dello Stato Regioni, perché il Ministro mi ci aveva messo, beh, di persone intelligenti, voglio dire, non è che ne abbiamo trovate tantissime, ma parlo di intelligenza, non è che erano stupidi, però non coglievano l'esigenza, signori, e la sostenibilità del sistema. Siamo qua per la sostenibilità del sistema. Non è che siamo qui perché difendiamo una posizione professionale. Siamo qui perché stiamo difendendo, perché poi siamo anche cittadini e abbiamo bisogno di quel sistema sanitario. Io questa mattina alle sette e mezza ho ricevuto la telefonata di un segretario confederale, di un sindacato, di un grande sindacato confederale, che mi annullava un appuntamento perché doveva riportare la mamma a casa e non sapeva come gestirla a casa, aveva bisogno di un'assistenza domiciliare. E quindi mi annullava un appuntamento per questo. Non aveva bisogno del clinico. Quindi prima, quando la consigliera della Federazione Nazionale diceva che non è necessario che il referente unico sia il medico, si fa una valutazione del bisogno prevalente e a seconda del bisogno prevalente può essere più importante la figura infermeristica, la figura del fisioterapista o la figura del medico generalista. Ma ci sono gli strumenti. Si chiama valutazione multidimensionale e in funzione di questa si assegna la responsabilità e la leadership. Cioè non dobbiamo scoprire nulla. Allora, lo scorso secolo è stato battezzato come il secolo del positivismo, dove tutto a fronte della scienza sembrava possibile. a tutto si poteva dare una spiegazione. Beh, visto l'immobilismo detto prima da Saverio, anche dal professor Croce, e non dico dal presidente perché lo ripete costantemente, beh, questo può essere il secolo dell'immobilismo e della negazione della scienza. perché si è dimostrato, è dimostrato quello che stiamo dicendo, non è che c'è qualcosa, cioè prima il professor Croce ha presentato dei numeri, eh? Io adesso in base alle organizzazioni che ho fatto vi darò dei numeri. E quindi nel momento in cui si dimostrano queste cose, cos'altro c'è da dire? C'è da dire che forse quello che comanda in Italia la politica sono i salotti. perché altrimenti non c'è ragione. Se abbiamo un problema che ci costa tanto e non riusciamo a risolverlo pur avendo le risposte. Scusate le precauzioni politiche, però non riesco proprio a capacitarmi. Quindi vi dicevo, da un punto di vista organizzativo noi abbiamo ipotizzato quello che poteva essere il flusso di un paziente dal momento del suo accesso nelle due porte di accesso pronto soccorso o preospedalizzazione se era una elezione e poi il suo percorso ospedaliero e poi anche comunque il suo percorso al di fuori dell'ospedale. E per questo abbiamo ipotizzato appunto gli aspetti strutturali come vi dicevano e gli aspetti funzionali. Quindi la dimensione dell'intensità di cura e complessità assistenziale come dimensione assistenziale l'inserimento di strumenti e le figure che venivano coinvolte mano a mano che si utilizzavano questi strumenti. Quindi abbiamo un paziente che entra e viene collocato in bassa o media intensità. Ma questo non è così a occhio, no? Un tanto al peso. No, appunto, come vi dicevo, c'è uno strumento che si chiama Trico che è un triage di corridoio che è una doppia scala, una scala clinica e una scala assistenziale che dà però il vantaggio di dare un unico score, un unico punteggio e quindi misura la persona. Preso questo il care manager che è riferito a un'area di competenza che può essere medica o chirurgica, io ne ho tre che è una per l'area medica, una per l'area chirurgica e una per l'area cardio-neurochirurgica e toracica. Individuata diciamo il peso di questa persona proveniente dall'elezione piuttosto che dal pronto soccorso la colloca all'interno dell'unità di degenza a secondo del suo peso. Perché? Perché in quell'unità di degenza c'è una staffatura di personale adeguata a quel peso. Nello stesso tempo al momento dell'accesso del paziente si misura anche con la razzica razzica uno strumento tipicamente laziale prodotto dall'agenzia di sanità pubblica nel 2010 che è la scheda di continuità infermieristica cioè la scheda di dimissione di fatto che però nel mio caso io ho utilizzato anche come sistema di valutazione multidimensionale di primissimo livello perché contiene nove item è molto semplice però va dalle condizioni di autonomia del soggetto alle condizioni sociali del soggetto e quindi alla necessità o meno di una continuità del bisogno assistenziale sia di tipo sanitario che sociale e in funzione della misurazione attraverso la razzica sia il pronto soccorso che la centrale di preospedalizzazione è in grado di attivare la centrale di continuità assistenziale dove ho i 5 case manager che si occupano appunto della continuità del paziente ospedale territorio fatto questo il paziente viene inviato nella degenza l'equipa infermeristica rimisura il paziente sia sotto il profilo trico che sotto il profilo della razzica lo fa grazie all'utilizzo di uno strumento uno strumento che si chiama PAI che è in italiano piano di assistenza individualizzato che è un prodotto tutto infermieristico perché è stato realizzato grazie al finanziamento del centro di eccellenza dell'IPASB di Roma e che praticamente racchiude in sé un'informalizzazione dell'accertamento che dà in maniera automatica diagnosi infermieristiche quindi interventi e attività e con anche riferimento ai problemi collaborativi o chiamate complicanze cliniche da anche in quel caso indicare le complicanze cliniche e le attività correlate quindi capire bene che abbiamo il piano di assistenza diciamo completo della persona perché dico sempre io ai miei collaboratori che la 251 viene sempre ricordata come la legge sulla dirigenza ma nessuno si ricorda che all'articolo 1 ai commi 2 e 3 si sottolinea che dobbiamo agire secondo un piano di assistenza e questo ce lo ricordiamo sempre quando passiamo davanti al giudice che ci chiede conto del nostro agire quindi fatto diciamo una valutazione anche attraverso questo strumento il paziente rimane in quella collocazione o viene ricollocato in maniera diversa comunque nasce un confronto tra l'equipa infermieristica e il care manager di riferimento il paziente poi viene rivalutato dall'equipa infermieristica nella sua dimissione e qualora non abbia avuto un peggioramento o quant'altro viene riattivato il case manager che è quello che prende contatti con il territorio per la sua continuazione nel frattempo della sua permanenza noi abbiamo inserito anche le consulenze infermieristiche noi abbiamo quattro consulenti tipologia di consulenza anzi per meglio dire perché i consulenti sono molti di più in iso risorse cioè non sono persone esclusivamente dedicate alle consulenze perché non me lo posso permettere ancora e quindi sono persone che diciamo hanno sono state collocate in diciamo in posizioni nel quale possono dare un 30% della loro attività alla realtà operativa e un 70% alle consulenze questo è quello che sono riuscito a fare fino ad oggi spero di poter arrivare al punto che è dimostrabile da un punto di vista di conto economico che l'acquisizione di una risorsa corrisponde altrettanto risparmia e noi li abbiamo inseriti per i pic per le ferite difficili per le stomie e anche per i drenaggi toracici ma come vedrete ha una dimensione molto molto ristretta diciamo che è stata più un'opportunità che un'esigenza quindi rispetto a quello che ha presentato poco fa Beatrice Mazzoleni noi ci siamo diciamo preventivamente già orientati su questo perché noi abbiamo avuto una evoluzione della figura del management che si diciamo stratifica fino alla direggenza dell'unità operativa semplice dipartimentale o di polo come nel mio caso anche in funzione di management diversificato e anche per quanto riguarda invece le scisse dico bene sì per quanto riguarda l'aspetto dell'evoluzione clinica della persona del professionista ovviamente tutto questo signori in un policlinico universitario privato è stato possibile perché perché io ho registrato costantemente ogni inserimento viene registrato misurato perché poi chiedono conto dell'utilizzo delle risorse e quindi per quanto riguarda l'intensità e complessità assistenziale noi abbiamo fatto preventivamente un'analisi per tre mesi prima dell'avvio avevamo valutato circa tre mesi prima la totalità dei pazienti e abbiamo constatato che il rapporto in una macro degenza di 54 posti letto erano 28 per i pazienti in media intensità e 26 posti letto per la bassa intensità ecco questo è diciamo la valutazione del dal primo gennaio come vedete siamo nella media e nella mediana quindi significa da un punto di vista statistico che il valore è solido ok le gode intervengono diciamo non influenzano il dato e quindi è certo che siamo intorno ai 27 pazienti però stiamo constatando un incremento dei pazienti medi perché scusate questa è bassa una riduzione dei pazienti bassi perché fino all'anno precedente i pazienti in bassa intensità erano molti di più erano circa tre di più ovviamente viceversa per quanto riguarda i pazienti in media dove abbiamo avuto invece un incremento dei pazienti medi rispetto a quello che era l'anno 2014 e questo ci deve far riflettere perché io devo fare anche una previsione per il budget 2016 e quindi dover prevedere magari gli incrementi di personale in funzione delle necessità e quindi se inizio ad avere più pazienti pesanti è ovvio che laddove io ho inserito degli OSS dovrò necessariamente inserire degli infermieri quindi gioco forza dovrò fare un bilancio di previsione in funzione di questo per quanto riguarda le consulenze infermeristiche questo è il panorama dal 2013 che sono state attivate ad oggi quindi come vedete un cospicuo numero di consulenze e come vedete la stragrande è per i PIC che vengono messi in maniera autonoma dai miei infermieri e solo nel caso in cui ci si trova di fronte a una situazione difficile che magari richiede invece l'inziazione chirurgica del catetere a quel punto si switcha sul chirurgo altrimenti è una competenza squisitamente infermeristica così come anche per le stomie e per le ferite difficili queste poi sono state monitorate in funzione della risposta perché ho dovuto chiedere poi un certo numero di ore ad incremento delle attività perché non riuscivo più a garantire almeno al 70% delle richieste un intervento entro le 48 ore stando in regime di risorse ovviamente infine la razzica cioè la scheda di continuità infermeristica come vedete questa è inserita in tutte le unità di intelligenza per adulti abbiamo una diciamo sua compilazione pari al 90% sia in ingresso che in uscita il 10% che vedete diciamo di scarto più o meno è relativo ovviamente ai decessi ma anche a quelle dimensioni io ho molti solventi ho circa 4 parti solventi e quindi ovviamente diciamo nella quantitativo totale dei ricoveri diciamo incidono più o meno su questa percentuale e questa è la capacità di intercetto dei bisogni di continuità assistenziale e come vedete su un totale di dimessi di 42.000 pazienti dall'inizio dell'anno fino ad ottobre ben 14.500 pazienti sono oltre 65 anni quindi una percentuale intorno al 33,5% e i pazienti potenziali fragili che io mi dovevo attendere secondo quello che è l'indagine di prevalenza che è l'8 barra il 10 erano da 1163 a 1455 bene io ho diciamo intercettato cioè anzi non io i miei collaboratori della centrale hanno intercettato ben 1462 pazienti dove però soltanto 1121 sono ultra 65 anni e questo deve far riflettere tutti i miei amici geriatri sulla foco cioè sulla loro concentrazione solo sulla fragilità per età perché come vedete ben 324 sono diverse fragilità e tra queste noi siamo andati a vedere oltre a una quota importante di apolidi e su questo abbiamo trovato una grande collaborazione con la comunità di Sant'Egidio e ci sono tanti pediatrici quindi rivedere anche tutto il concetto di continuità assistenziale e di fragilità ad essa correlata non solo sull'aspetto dell'età va bene questa è la diciamo loro collocazione e quando in questo caso si parla di domicilio signori si parla di domicilio concordato con il CAD non domicilio come succede in tutti gli altri casi dove si manda il paziente a domicilio e lo si da da seguire al medico di medicina generale che significa lasciarlo solo insomma come sappiamo tutti io ho finito la mia relazione e questa era la frase che io ho misi all'inizio quando ho prospettato il diciamo il disegno di riorganizzazione all'interno del Polichinico Gemelli e questa è una bellissima frase di Einstein che dice comunque vada sarà un disastro insomma grazie grazie Maurizio io conoscevo già l'esperienza del Gemelli la reputo sempre molto interessante un ottimo laboratorio che ci aiuta a sostenere la tesi che misurare ci consente anche di acquistare e acquisire autorevolezza e dimostrare che l'innovazione di ruoli funzioni e responsabilità ha un ritorno in termini di appropriatezza delle cure ma anche di appropriatezza economica ed organizzativa questo credo sia anche uno dei temi principali perché come dire la tendenza che è un po' diffusa che è quella di bloccare sul nascere attraverso ricorsi al Taro attraverso vie giuridiche sperimentazioni di nuovi modelli e di nuove situazioni insittamente credo abbia un pochino anche come dire l'obiettivo di evitare di far partire l'organizzazione o la riorganizzazione o la sperimentazione perché nel momento in cui poi si va a misurare e la misurazione ci dice uno che funziona due che è migliorata la continuità assistenziale la compliance del paziente e la appropriatezza organizzativa assistenziale tre che i pazienti non stanno peggio perché qualcuno ha anche detto che dove non c'è il medico l'assistenza è pericolosa ecco io credo che alla fine come dire uno degli obiettivi nascosti sia quello di bloccare tutto prima affinché non si arrivi a misurare questo credo che Palmiro che adesso segue ci potrà dare evidenza di questo aspetto dobbiamo essere dobbiamo rafforzarci nella convinzione sostenuta dai dati che è quello che stiamo andando a proporre alle gambe non solo per camminare ma può produrre dei risultati e dobbiamo arrivare a produrre risultati dobbiamo arrivare a dichiarare a misurare gli esiti e gli outcome perché solo dando la dimostrazione del fatto che quello che abbiamo pensato progettato che vogliamo per i nostri pazienti per il nostro sistema funzioni alla fine aiuterà anche a superare alcune barriere alcuni scogli perché poi i dati parlano da soli e i dati dimostrano che il sistema funziona che il sistema regge il tentativo però è quello di bloccarci ancora prima quindi proprio non arrivare a farci misurare perché come dire Galileo diceva che un fenomeno lo conosci quando lo misuri quindi noi abbiamo ancora mi ricordo anni fa un direttore che diceva no ma noi non abbiamo le infezioni ospedaliere sì ma le stai misurando no certo non le misuri non le trovi voglio dire mi sembra ecco così come le cadute dei pazienti no ma da noi sono poche cadute dei pazienti ma le misurate no quindi la misura misurare e far vedere i risultati della misurazione far vedere gli esiti far vedere gli outcome questi per gli aspetti organizzativi ma penso anche al messaggio che ha lanciato il collega Zega anche rispetto agli esiti e agli outcome infermieristici ci sono degli esiti e degli outcome infermieristici soprattutto per alcuni quelli che si chiamano nursing sensitive outcome quindi quegli esiti sensibili alle cure infermieristici cioè quegli esiti che sono influenzati dalla modalità di approccio dell'assistenza infermieristica ecco questo è un altro aspetto su cui dobbiamo iniziare a confrontarci in maniera strutturata perché è un altro aspetto che ci aiuterà a giustificare la necessità di certe scelte di certi standard di certi tipi di approccio quindi l'invito è veramente a ragionare sì sul progetto e sulle riorganizzazioni ma anche a portare i dati tant'è vero che noi ai nostri quattro relatori abbiamo chiesto soprattutto di farci vedere e di dare alla platea l'idea di che cosa ha portato non solo come obiettivi perché noi siamo sempre molto bravi a progettare finalità obiettivi metodologia risultati attesi indicatori tutto poi dopo spesso abbiamo poco di ritorno in termini proprio di esiti e di outcome misurati quindi questo ci deve aiutare anche a metodologicamente approcciarci all'innovazione organizzativa e alle tematiche legate alla sostenibilità del sistema sanitario nazionale proprio con la misurazione in questo senso chiedo a Palmiro Riganelli di venire a presentarci l'esperienza della unità operativa di agenza infermeristica che è partita all'azienda ospedaliera Misericordia come si chiama? ecco Misericordia ho chiesto proprio a Palmiro quando ci siamo sentiti di farci vedere i dati dei primi dei primi mesi di sperimentazione grazie Palmiro buongiorno a tutti grazie a presidente grazie agli organizzatori di questo evento perché sicuramente ci dà la possibilità di un confronto che tutti noi siamo convinti sia la miglior strategia per poter crescere e per poter portare a casa soluzioni diverse da poter poi offrire alle persone che assistiamo quotidianamente io un ringraziamento lo devo veramente di cuore anche al direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia al dottor Walter Orlandi che ha creduto in questo progetto e che è stato come dire un pioniere di questa iniziativa ma devo ringraziare anche la collega Gabriella Carnio che è la responsabile del dipartimento e professioni sanitarie Grazie a tutti